A voi, alla GTG Express, Mario Bruno Sindic, nuova giunta, continuità territoriale, ancora problemi per agli, l'evento mondo rurale, amatori guagna Mercedes Pelch, football, football regionale, i risultati della Salgaresa. Buongiorno a tutti, all'appuntamento quotidiano all'infirmazione del Gero Channel, saluti russamici catalansi. Mario Bruno, rassagurati dell'antrara aggiunta di Alessandro Nasone e Mimo Pirisi e del favore esterno del PD, Ayr ha ritirato le dimissioni. A voi, al Maiti, ha annunciato l'antrara aggiunta di Alessandro Balzani, all'urbanistica edilizia privata, Angela Cavattuzzi, alla Sanità e i servizi sociali, alla cultura e turismo Gabriele Esposito, con Falmat, Lusas e Sols, Ornella Piras, Raniero Selva e Raimondo Cacciotto. A CESH ultim di nuovo vice sindic. Grazie. 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 a due basket femminile la mercede per te 85 a 68 a ma san raffaele roma nera b direbbe amatori guagna 37 a set a malcruz milano a maria pia ora vi ho la regia e li buttiamo in diretta la tua storia è unica come te raccontala con i nuovi vasetti nutella milioni di combinazioni diverse per parlare di te nutella come te non c'è nessuno football in primaria categoria numero 2 a 2 ai campi di malaspina al sagona nel 1945 al guagna per 1 a 3 il derby contro l'audax mentre la tres ligues guagna 6 a 1 il padre maristella ha raposato curiosità a voi parliamo della torre di san giovane la torre di san giovane è stata a realizzare ampera di massacra nel secolo XVI era maestosa con la torre della sparur real per oltre a militarsi nella primera metà del 1700 vè ridimensionare originariamente arriva tre spranz a voi solamente i dos tambi sono prà mesi in basi e smicci anterrati e hanno utilizzato ora è stata a disposizione per spazio espositivo è stato modificato l'aspetto originale della torre ma conserva tutta intera la sua belleza e qualsavol segnala la sua una sua pregunta se voi potete contattare la pagina di facebook algero channel amus vera a un altro momento a